ok allora iniziamo la lezione sulle sindrome coronariche acute ripartendo da quello che avevamo detto ieri sul dolore toracico che comunque ci tornerà molto utile primo concetto fondamentale noi oggi parliamo di sindrome coronariche acute per identificare qualcosa che in realtà ha cambiato nome molte volte ok quello che prima era l'infarto l'infarto q l'infarto non q che poi è diventato infarto miocardico che poi è diventato angina instabile non stemmi estemi vedremo dopo che cosa sono queste tre entità e in realtà ha cambiato nome questo per dirvi che se voi andate a vedere dei testi un po più vecchi occhi queste sono tutte le definizioni come sono evolute nel tempo potete trovare della nominatura che non si usa più ok la patologia ovviamente la stessa è cambiato il nome di descriverla attualmente parliamo di sindrome coronariche acute che cos'è la sindrome coronariche acuta è sostanzialmente una patologia legata dalla occlusione di un ramo di una coronaria che poi vedremo quali sono quelle coronariche tipi di di quadri danno l'occlusione di un ramo della coronaria che porta a ischemia miocardica ok quindi nel novero delle sindrome coronariche acute le tre grosse patologie che vedremo hanno comunque come meccanismo alla base fondamentale l'ischemia miocardica questo perché a seconda del grado di ischemia e a seconda della tipo di presentazione potrò dividere le sindrome coronariche acute in infarto miocardico con st sopraslivellato anche detto STEMI STEMI è la cronica no ST elevato miocardica dopo lo vediamo in specifico infarto miocardico con ST non sottoslivellato che sta per N STEMI cioè non ST elevato miocardica e angina instabile che l'abbiamo vista ieri queste tre grosse condizioni vanno all'interno del novero delle sindrome coronariche acute ma il meccanismo eziopatologico alla base è l'ischemia miocardica come vado a valutare l'ischemia miocardica il parametro vediamo che ce ne sono diversi e una volta erano tutti sullo stesso piano una volta si parlava di triade tra dolore toracico tipico elettro cardiogramma e marcatori di laboratori nelle ultime linee guida i marcatori di laboratorio hanno preso diciamo il primo piano il marcatore di laboratorio per marcatore di laboratorio intendo essenzialmente la troponina e anche quelle dopo le vediamo nel dettaglio e misurati in acuto ha il assunto ruolo di rilevanza per parlare di infarto miocardico quindi stemmi o non stemmi io devo avere dei livelli di troponina elevata può essere la troponina t può essere la troponina i ci sono vari tipi di troponine ad alta sensibilità di generazioni diverse non vi interessa il concetto fondamentale è paziente con infarto miocardico stemmi o non stemmi che sia deve per forza avere un aumento della troponina parlo di marcatori di laboratorio non parlo di enzimi quello che si fa di solito in pratica clinica spesso si dice fagli gli enzimi miocardici semplicemente perché la troponina non è un enzima non scinde niente e quindi parlare di enzimi in questo caso quello che spesso si sente dire è completamente scorretto si parla di marcatori miocardici c'è la troponina ormai si usa quasi esclusivamente quella ce ne sono anche altri che comunque vediamo dopo quindi messaggio fondamentale primo criterio criterio principe per parlare di infarto miocardico acuto troponina elevata e lo vedete qua ci sono anche i criteri aggiuntivi cioè io oltre alla troponina elevata devo avere uno almeno dei criteri che vedete qua alcuni sono più difficili da recuperare soprattutto questo ultimo che mi fa sempre molto ridere l'identificazione di un trombo coronarico all'autopsia bravissimi ci permette di fare diagnosi di infarto miocardico acuto ma se siamo arrivati all'autopsia forse un gran lavorino non l'abbiamo fatto lavoriamo su questi qua oltre alla troponina dobbiamo avere dei sintomi di ischemia cosa intendo dolore toracico tipico quello che abbiamo detto ieri paziente che mi si presenta con un dolore toracico costrittivo oppressivo scarsamente localizzato magari con irradiazione magari con sintomi neurovegetativi è un paziente che potenzialmente devo scrinare per un infarto miocardico che è un criterio importante non è fondamentale ben detto fondamentale è la troponina sono i marcatori ma è un criterio aggiuntivo un secondo criterio aggiuntivo importante sono le alterazioni dell'elettrocardiogramma in questo caso le vediamo poi le alterazioni ci distinguono il tipo di infarto tra stemmi e non stemmi gli altri criteri che vedete qua ve li ho messi ma in realtà sono molto più rari qua parliamo di sviluppo di onde q patologiche ma anche qui se siamo arrivati all'onda q che un'onda di necrosi probabilmente un gran lavoro non l'abbiamo fatto e l'imaging forse è un pochino più utile cioè io per esempio in sala emergenza nel mio paziente che mi arriva con dolore toracico acuto vedo all'ecografia che c'è una zona cardiaca che non contrae come le altre come dovrebbe questo è un criterio buono per l'infarto miocardico la differenza tra stemmi e non stemmi quelli vediamo nello specifico la fa l'elettrocardiogramma quindi per parlare di infarto devo avere le troponine più uno di questi che vedete qua quando parlo di angina instabile invece quando i criteri aggiuntivi senza l'aumento di troponine ok l'angina instabile non è un infarto nel senso che non da un ischemia acuta da un'ipossia nell'angina instabile ho tutti questi criteri sotto tranne ovviamente il trombo all'autopsia tutti questi criteri sotto ma non ho l'aumento della troponina cosa vuol dire che se un paziente con dolore toracico di nuova insorgenza tipico non ha precedenti prima vado a mi arriva in pronto soccorso e gli faccio l'elettrocardiogramma a delle alterazioni tipiche ma la troponina e negativa parlo di angina instabile come vedete poi il trattamento e il percorso dell'angina instabile è praticamente identico a quello della non stemmi quindi cambia molto poco meccanismi alla base dell'infarto allora l'infarto miocardico può essere di cinque tipi in realtà io ve li faccio vedere ma non è necessario che li riconosciate tutti perché la grossa differenza si ha semplicemente tra l'infarto miocardico tipo 1 e non tipo 1 il meccanismo alla base dell'infarto miocardico tipo 1 l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato di aterosclerosi nello specifico il concetto fondamentale è quello del trombo su placca cioè c'è una placca aterosclerotica instabile se vi ricordate cosa vuol dire questa placca aterosclerotica instabile a causa dei fattori locali e sistemici rompe il cappuccio fibroso si crea un trombo perché il cappuccio fibroso rotto porta all'esposizione di fattori infiammatori protrombotici il cappuccio fibroso rotto va a formare un trombo piastrinico che chiude il vaso meccanismo di trombo su placca in alcune condizioni questo trombo poi si può anche frammentare si può anche rompere e portare all'embolizzazione di micro frammenti anche a valle della placca nella coronaria questo qui è il meccanismo fondamentale dell'infarto quello che vediamo nel 90 per cento di tutti gli infarti che già arrivano dal pronto soccorso ok trombo su placca aterosclerosi fase finale fase acuta diverso è il discorso dell'infarto miocardico tipo 2 in questo caso ho sempre un ischemia nel territorio a valle di una coronaria ma la nostra coronaria non ha un trombo può avere una placca o addirittura essere sana quello che cambia è che in questo caso ci può essere un mismatch cioè uno squilibrio tra la domanda e la richiesta di ossigeno l'esempio classico è il vasospasmo cioè la mia coronaria dove magari c'è già una placchettina si contrae la tonaca muscolare della della coronaria la fa contrarre e quindi il vasospasmo porta a un ischemia del territorio a valle classica angina variante anche detta ci sono altre situazioni in cui l'infarto miocardico tipo 2 cioè lo squilibrio tra la domanda e la richiesta di ossigeno è data da altre patologie come per esempio le aritmie se il cuore va molto veloce non fa in tempo a distendersi una cosa che non abbiamo detto che forse dobbiamo dire che il flusso coronarico cioè il passaggio di sangue nelle coronarie è prevalentemente diastolico se io un paziente che mi va a frequenza molto elevata la fase diastolica è praticamente abolita non ho flusso coronarico e posso avere un infarto miocardico da discrepanza e un'altra causa molto frequente è l'anemia io posso avere un flusso diciamo una portata coronarica magari anche adeguata ma se il mio paziente perde due tre grammi di emoglobina l'apporto di ossigeno la concentrazione di ossigeno mi diminuisce il mio paziente mi fa un infarto tipo 2 concetto fondamentale è semplicemente che nell'infarto tipo 2 il meccanismo che porta ischemia non è il trombo su placca può essere tutt'altro ok ma non il trombo su placca cosa vuol dire che se io faccio una coronarografia coronarografia mi viene assolutamente normale o mi trova delle placche che però non sono di grosse dimensioni ci sono queste vedete le differenze tra il tipo 1 e il tipo 2 il concetto fondamentale che dovete ricordare che tipo 1 è trombo su placca il tipo 2 c'è un'ischiomia data da qualsiasi altro tipo di meccanismo che non sia il trombo su placca ce ne sono altri di tipi di infarto miocardico che sono più rari ve li accendo solamente l'infarto miocardico tipo 3 in realtà è la morte improvvisa abortita cioè l'infarto che esordisce con una aritmia ventricolare potenzialmente fatale le vedremo poi nel dettaglio quando faremo la lezione sulla morte cardiaca e questa qui che vedete la telemetria per esempio una fibrillazione ventricolare se l'infarto esordisce con un arresto cardiaco si parla di infarto miocardico tipo 3 è ovvio che per fare la diagnosi devo aver per lo meno rianimato successivamente e efficacemente il paziente ed essere riuscito in qualche modo a identificare il meccanismo alla base infarto miocardico tipo 4 questo mi interessa relativamente ricordatevi che esiste è dato da un infarto successivo a un'angioplastica vedete questo è lo stent all'interno della coronaria cosa intendo per infarto successivo all'angioplastica qualcosa che intervenga o una retrombosi all'interno di uno stent già messo oppure una chiusura dello stent per esempio per disfunzione della maglia questa è una maglia metallica che viene gonfiata dopo se abbiamo tempo vi faccio anche vedere cosa intendo di preciso come funziona una rivascolarizzazione per cutanea oppure una restenosi intrastento cioè la tonaca media col passare del tempo va a inglobare lo stento e può creare una nuova stenosi comunque in linea di massima concetto fondamentale infarto miocardico tipo 4 è infarto su una procedura di angioplastica l'infarto miocardico tipo 5 è l'infarto su una procedura di bypass che è un bypass cardiochirurgico non è importante sapere il resto altre due definizioni di base infarto silente non sempre l'infarto da una clinica noi ci aspettiamo che tutti i pazienti che chiudono una coronaria soprattutto se con un meccanismo di tipo 1 abbiano dolore, abbiano dolore forte, afferiscono in pronto soccorso in realtà non è così, si stima che quasi un quarto di tutti gli infarti sia silente e non dia sintomatologia questo riguarda soprattutto alcune categorie di pazienti, nello specifico i pazienti con diabete i pazienti con diabete possono sviluppare una neuropatia che può coinvolgere anche i territori nocicettivi cardiaci se quindi io non ho la fase acuta perché il paziente non mi si presenta magari lo vedo successivamente anche a distanza di anni e trovo, cosa trovo? le onde Q, cioè le onde all'elettrocardiogramma che sono la risultante di una necrosi cardiaca trovare le onde Q, vediamo dopo cosa si intende nello specifico per onde Q in un paziente che mi viene a visita per tutti altri motivi mi fa sospettare un infarto pregresso un infarto silente o non riconosciuto anche detto altra condizione che capita abbastanza spesso è il paziente che viene a fare un ecocardiogramma per motivi diciamo non legati a un dolore toracico all'ecocardiogramma si nota una perdita di tessuto contrattile si nota una zona di ventricolo sinistro più o meno estesa che non contrae o contrae molto male anche questo è un criterio per sospettare un infarto silente una definizione di infarto silente ovviamente non ci deve essere la clinica non ci deve essere il dolore toracico altrimenti non è silente ultime due definizioni re-infarto un re-infarto è un infarto che avviene a 28 giorni, un mese di distanza da un infarto precedente quindi il paziente ha un primo infarto se un secondo infarto gli capita entro 28 giorni si parla di re-infarto in questo caso se il paziente è stato sottoposto a angioplastica bypass è lecito a sospettare un infarto miocardico tipo 4, tipo 5 comunque un fallimento della procedura di rivascolarizzazione se il secondo infarto gli arriva dopo un mese dal precedente parliamo di infarto ricorrente in questo caso è un po' più difficile pensare per esempio a una trombosi di stemma ma anche in questo caso va comunque rivista la pregressa rivascolarizzazione problemi legati all'infarto allora, concetto fondamentale una volta non c'erano grosse terapie per la sindrome coronarica acuta in generale il paziente tendeva a sviluppare complicanze o a morire sul colpo per esempio per il tipo 3 oppure a sviluppare molte complicanze proprio perché non c'era possibilità di salvare il muscolo miocardico e soprattutto non c'era possibilità di salvare il muscolo miocardico in tempi rapidi perché come ci possiamo immaginare nel momento in cui si chiude la coronaria più tempo lascio passare prima di riaprirla e più muscolo mi andrà incontro a ischemia e a necrosi quindi nella gestione del sindrome coronarica acute è basilare la questione dei tempi adesso l'infarto è un infarto che dispone di una rete che spesso funziona pure piuttosto bene che porta il paziente a un arrivo a scolarizzazione precoce cosa vuol dire? vuol dire che le complicanze dell'infarto sono molto meno di una volta in termini di prevalenza possiamo comunque vederne diverse che si dividono in acute croniche quelle acute sono quelle che abbiamo durante la fase di ospedalizzazione classicamente ma le abbiamo già viste in realtà le bradi o le tachiaritmie per esempio paziente con un infarto tipo 3 che esordisce con un arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare ha in realtà già una complicanza acuta lo scompenso cardiaco acuto chiaramente se una parte del mio ventricolo sinistro è ischemico e quindi non contribuisce alla contrazione io avrò una riduzione della funzione di pompa del cuore e quindi uno scompenso cardiaco acuto che può nei casi peggiori arrivare anche a edema polmonare e a shock cardiogeno parleremo dello scompenso cardiaco in una grossa peraltro lezione più in là quindi per il momento lo lasciamo lì altre complicanze acute che si possono verificare la rottura di cuore cioè la rottura proprio di parete la pericardite epistenocardica e come abbiamo accennato l'embolia che può essere sia coronarica a valle diciamo del trombo che si è formato ma anche un'embolia endocavitaria cioè avere una zona cardiaca che contrae meno bene o che addirittura è ferma può portare alla stratificazione di un trombo all'interno della cavità ventricolare sinistra classicamente questo succede per esempio quando oltre alla acinesia cioè alla perdita di contrattilità data dall'ischemia c'è anche un aneurisma e quindi uno sfiancamento della parete che porta a una raccolta saccata in cui il sangue stagna e per fenomeni di stasi si forma l'embolo pazienti con emboli a livello endocavitari trombi endocavitari si possono ovviamente poi staccare diventare emboli e dare embolia sistemica più frequenti al giorno d'oggi sono le complicanze tardive in questo caso da parte del padrone la fa lo scompenso cardiaco cronico ma come vedete ce ne sono tante altre non andiamo nello specifico per mancanza di tempo ricordatevi che il paziente che ha avuto un infarto miocardico è un paziente che potenzialmente può sviluppare vedete tutta una serie di altre problematiche cardiovascolari e quindi è necessario poi seguirlo nel tempo anche a distanza classicamente la complicanza tardiva dell'infarto miocardico soprattutto se non rivascolarizzato subito è lo scompenso cardiaco quindi la perdita di funzione compenso cardiaco sistolico quindi la perdita di funzione contrattile del ventricolo marcatori miocardici allora li abbiamo già accennati questi sono tutti i marcatori miocardici che si facevano una volta diciamo una decina di anni fa ripeto un concetto fondamentale non parlate di enzimi spesso si sente soprattutto nei reparti non farò i nomi per par condicio in alcuni reparti si sente ma fagli gli enzimi allora le CKMB sono enzimi tutti gli altri non sono enzimi la troponina non è un enzima la mioglobina non è un enzima quelle che vedete qua sono le curve di concentrazione nel sangue dall'inizio dell'infarto momento 0 a una settimana dall'infarto come vedete le curve differiscono differiscono sia perché nell'angina instabile abbiamo detto c'è un aumento di troponina ma che però non arriva ai criteri diciamo limite non supera il cut off nell'infarto miocardico stemmi e non stemmi invece supera i cut off e le mioglobine non si fanno quasi più le vedete qua dove sono qua l'unica cosa positiva della mioglobina è che aveva un rilascio precoce in realtà vedremo poi ci sono dei percorsi adesso si utilizza praticamente solo la troponina ci sono dei percorsi che permettono di fare diagnosi anche a distanza di poche ore perché la troponina perché si sceglie la troponina perché è più sensibile e più specifica sia delle CKMB che della mioglobina e la sensibilità la specificità dipende anche dal tipo di dosaggio ok un paio di concetti fondamentali in pratica clinica ci sono degli ospedali che dosano la troponina I come per esempio il nostro in ospedali riuniti abbiamo una troponina I ci sono degli altri ospedali come per esempio l'IRCA che dosano la troponina T i valori di riferimento sono completamente diversi cosa voglio dire? voglio dire che se io cerco di ricostruire una curva della troponina del mio paziente che è andato che ne so all'IRCA al PPI dell'IRCA gli hanno fatto lì la troponina T è venuta elevata e me lo mandano a torrette io a torrette ho la troponina I i due valori di laboratorio non sono confrontabili ok? perché parliamo di misurazioni completamente diverse quindi occhio se vi arriva il paziente dall'ospedale periferico a vedere che troponina ha fatto perché se non è la troponina che avete voi fate fatica anche il tipo di dosaggio non è lo stesso ci sono alcuni ospedali che ancora hanno troponine a bassa sensibilità quindi quelle senza HS che sarebbero i sensibili per capirci e dopo l'addizione di troponina I non si riesce a fare il confronto non si riesce a capire se la troponina sta facendo una curva oppure no altra cosa in linea di base la troponina richiede da 1 a 3 ore per come dire arrivare a dei valori elevati da quando inizia il dolore o da quando inizia l'infarto cosa vuol dire concetto fondamentale che se io ho un paziente che ha dolore torace ed è sveglio e quindi mi arriva subito il pronto soccorso dopo 15 minuti dopo 20 minuti dopo un'ora dall'insorgenza del dolore io gli faccio il prelievo per la troponina il prelievo per la troponina può venire ancora negativo cosa vuol dire che la troponina sta entrando in circolo ma ancora non è arrivata una concentrazione tale da superare i limiti di normalità ok c'è un ritardo tra l'insorgenza del dolore e l'inizio della curva di troponina di solito parliamo di 1-3 ore questo spiega una cosa fondamentale nei pazienti con dolore torace tipico e con alterazioni dell'elettrocardiogramma di tipo non-stemi che hanno una troponina chiamiamola negativa l'indicazione è quella di ripetere l'esame a distanza di tempo una volta si faceva a distanza di 6 ore cioè si facevano due prelievi a tempo 0 cioè quando arrivava il paziente e a 6 ore adesso ci sono delle tecniche di laboratorio che permettono di andare a recuperare valori anche elevati di troponina senza aspettare così tanto senza aspettare le 6 ore ci sono protocolli 0-1 ora addirittura ci sono protocolli come quello che abbiamo attualmente istituito noi ospedali riuniti di Ancona che sono protocolli 0-3 ore ok cosa cambia nella diciamo in teoria niente perché se la troponina è già elevata a 3 ore sarà elevata anche a 6 nella pratica però cambia molto perché uno il paziente aspetta 3 ore in meno prima di avere una diagnosi e due soprattutto in questi tempi io riesco a liberare pronto soccorso più velocemente quindi ricordatevi classico 0-6 ore da noi adesso siamo 0-3 ore cambia da ospedale l'ospedale perché cambia secondo il tipo di troponina che avete ricordatevi che un paziente con dolore toracico con ECG suggestivo per non STEMI mi raccomando non STEMI che ha una presentazione precoce una prima troponina negativa deve fare un secondo controllo questa cosa non si applica eccezione invece per la STEMI nella STEMI io non aspetto neanche il primo prelievo di troponina mi basta l'ECG perché sono veramente coi minuti contati e lo vediamo dopo in alcuni casi ormai non si fa così più ma ve lo dico perché in ospedali periferici vi può capitare si lavora oltre alla troponina con l'ECK l'ECK ci possono servire in aggiunta alla troponina come marcatore aggiuntivo nel senso troponina elevate CK MB elevate le CK totali non si usano più scordate delle proprie questa è l'isoforma cardiaca se ho le troponine elevate CK MB elevate o se vogliamo una conferma che sono sulla giusta via per una per un infarto miocardico in realtà ripeto non si fanno quasi più concetto fondamentale che mi interessa soprattutto a me in quanto cardiologo la troponina non si alza solo per l'infarto ok questo qui lo posso ripetere 50 volte e ci sono tante vedete qua non sono tutte ma sono tante cause di aumento della troponina che non sono l'infarto lo dico perché spesso in alcuni reparti continuano a nominare ma tanto prima o poi mi scappa e il paziente fa un prelievo per la troponina per magari dolore toracico manco tipico oppure chiaramente a capocchia viene la troponina elevata collega del reparto indominato dice ah sono l'infarto e parte una serie di esami e accertamenti e inappropriati soprattutto che mettono in difficoltà chi poi deve andare a dire che quello non è assolutamente un infarto mentre nel frattempo c'è altre robe a cui pensare più seri esempi classici allora tutto quello che non vi dà una curva di troponina noi abbiamo visto che la troponina dopo l'inizio della chiusura coronaria ha una curva cioè sale abbastanza velocemente poi scende nel corso dei giorni ok se il paziente ha una troponina alta ma non fa una curva cioè la sua troponina è alta fissa sempre a quel livello non è un infarto questo lo dico per esempio perché capita nei pazienti con insufficienza renale cronica severa o nei pazienti in dialisi che questi ovviamente non smaltiscono la troponina a livello renale i loro livelli di troponina non sono quelli della popolazione normale e quindi nel momento in cui gli faccio la troponina mi viene alta gliela faccio dopo 6 ore è sempre uguale gliela faccio dopo un giorno è sempre uguale non è un infarto non c'è motivo di spaventarsi diverso è il discorso di altre patologie che già rientravano nella diagnosi differenziale per esempio del dolore toracico dissezione aortica ed embolia polmonare classicamente abbiamo accennato l'altra volta le grandi mimatrici dell'infarto non mi mimano solo la clinica tipica non mi mimano solo l'elettrocardiogramma in alcuni casi ma mi mimano anche l'aumento di troponina perché guarda un po' che la troponina è presente anche nelle cellule della tonaca muscolare della orta dell'arteria orta o è presente a livello polmonare quindi un paziente con embolia polmonare con discezione aortica ha un aumento di troponina in questo caso si va a lavorare per esempio con altre metodiche l'ecografia che mi dà un buon sospetto o l'esame classico che è l'attacca col mezzo di contrasto addirittura in alcuni casi la troponina è secondaria a una problematica sistemica se un paziente settico ha un rilascio di troponina a livello sistemico non per forza deve avere un infarto se il paziente ha una rabdomiolisi perché per esempio ha avuto un trauma classicamente i recuperati dai crolli di edifici che hanno rabdomiolisi massiva da compressione muscolare scheletrica hanno un aumento di troponina troponina T e I è presente nel tessuto muscolare cardiaco ma su grosse rabdomiolisi la posso trovare anche per lesioni del muscolo scheletrico un concetto fondamentale è la troponina è basilare per farla di angeli infarto neocardico ma non basta servono anche i criteri aggiuntivi che sono quelli che abbiamo visto prima un paziente con troponina elevata assolutamente asintomatico con un elettrocardiogramma normale e basilare riandare a valutarlo a farci due chiacchiere andare a vedere la documentazione per capire che cosa può avere che non è detto che abbia per forza un infarto di solito non ce l'ha criteri per l'elettrocardiogramma allora abbiamo detto che paziente con infarto neocardico si divide in stemi cioè ST elevated o in non stemi cioè non ST elevated in base all'elettrocardiogramma ma che criterio nello specifico l'abbiamo già detto l'elevazione del tratto ST questo è importante perché spesso anche questo genera estrema confusione soprattutto in chi ha poca dimestichezza sugli ECG perché ci sono una serie di tracciati normali di paziente giovane che non sono significativi per ST elevation che cosa si intende per ST elevation si intende un sopra slivellamento del tratto ST quindi dalla fine del QRS all'inizio della T con delle caratteristiche specifiche allora prima di tutto non basta una sola derivazione se vedete un ST sopra slivellato solo in una derivazione non è una stemi ok non c'è nessun infarto che colpisce un'area talmente piccola da darvi una sola derivazione devono essere almeno due e devono essere vicine di sede vediamo dopo cosa intendiamo per sede il sopra slivellamento deve essere importante deve essere significativo cioè deve essere almeno un millimetro un millivolt millimetro e millivolt siamo sullo stesso livello almeno un millimetro tranne che in V2 V3 dove deve essere addirittura più grosso ok cioè se vedete l'St in qualsiasi derivazione deve essere almeno un millimetro sopra slivellato rispetto all'iseletrica questi sono quadri esagerati dove vedete ci sono sopra slivellamenti qui siamo 7-8 millimetri qui siamo forse un centimetro ok qui siamo 5 millimetri questi sono quadri abbastanza chiari non è sempre così chiaro già questo è molto più difficile da segnalare come st slivellato in ogni caso almeno un millimetro o di più in tutte le derivazioni tranne V2 e V3 V2 e V3 devono essere almeno 2 millimetri nei maschi sopra 40 anni almeno 2 millimetri e mezzo nei maschi sotto perché i maschi sotto 40 anni spesso hanno nel tracciato normale una tendenza al slivellamento di V2 V3 e almeno un millimetro e mezzo nelle donne quindi concetto fondamentale non basta una derivazione per iniziare ad aver paura ne servono due servono contigue e l'ST deve essere super slivellato in maniera discreta in quel caso parlo di STEMI concetto di non STEMI il concetto di non STEMI è importante fondamentale perché uno può pensare allora la STEMI c'è l'ST sopra la non STEMI c'è l'ST sotto non è proprio così non STEMI vuol dire non ST DELEVATED maiocare dell'infarction e quindi non STEMI è tutto il resto cioè tutto quello che non è ST sopra concetto fondamentale io posso avere una non STEMI con l'ST sotto come vedete qua posso avere una non STEMI con le T invertite come vedete qua posso avere una non STEMI con l'elettrocardiogramma normale ok concetto estremamente importante STEMI è ST sopra non STEMI non è ST sopra quello vuol dire tutto il resto se un paziente con dolore toracico tipico che mi aumenta la troponina e ho un ECG normale ho un paziente con non STEMI ok ci siamo questo l'abbiamo già accennato ieri paziente che presenta un'onda Q o un complesso QS vedete qui non c'è la R quindi parliamo di complesso QS è un criterio per infarto precedente oscillente l'abbiamo accennato prima anche in questo caso non basta una singola derivazione ne servono due e la Q deve essere di dimensioni sostanziali cioè cosa vuol dire vuol dire che deve essere larga almeno quadratino e in alcuni casi vedete che non c'è neanche la R il QS è quasi sempre patologico non mi serve che vi ricordiate tutte le definizioni elettrocardiografiche ricordatevi solamente che anche in questo caso servono almeno due derivazioni contigue e la Q deve essere di dimensioni cospicue partiamo adesso con la singola definizione che è quella dell'infarto miocardico ST sopra slivellato e quindi STEMI l'algoritmo diagnostico per le per le sindrome coronariche acute è sempre lo stesso cioè si parte di solito dalla diagnosi di dolore toracico si lavora fino alla diagnosi di sindrome coronariche acute e quindi qua vedete che c'è lo snodo elettrocardiografico se il paziente ha un ST sopra slivellato con i criteri che abbiamo visto prima si parla di STEMI dato importante se vedete nell'algoritmo della linea guida non c'è la fase di laboratorio non c'è l'atroponina cioè nella gestione acuta della STEMI eccezione a quello che abbiamo detto prima quando parlavamo di definizione non si aspetta l'atroponina la farò faccio il prelievo ma non aspetto il ritorno del prelievo per parlare di STEMI ok questa è l'unica vera sola eccezione al discorso che facevamo prima della diagnosi ovviamente l'atroponina nella STEMI si alza si alzerà molto ma il concetto fondamentale è che io nel momento in cui vedo un settissimo proslivellato un dolore toracico non ho tempo da perdere devo rivascolarizzare il paziente il prima possibile questo perché la STEMI che è data da un'occlusione completa e totale di una coronaria porta a un infarto che è quello che classicamente veniva definito infarto transmurale cioè passa zero sangue l'infarto è completo l'occlusione della coronaria è completa e passando zero sangue avrò un'ischemia che poi diventa area di danno cardiaco che poi diventa area di necrosi più tempo passa in ischemia totale e più perdo muscolo si dice anche che il tempo in questo caso è muscolo più tempo il mio la mia zona questa è la parete libera di un ventricolo sinistro più tempo il mio ventricolo sinistro rimane senza sangue e più grossa sarà l'area di cuore che vado a perdere che muore che mi va in necrosi e quindi peggiori saranno le conseguenze a breve e a lungo termine quindi il concetto fondamentale nella STEMI non bisogna perdere tempo non si aspetta non neanche le troponie altro concetto fondamentale posso andare a localizzare l'area dell'infarto trasmurale come abbiamo detto quindi a tutto spessore utilizzando l'elettrocardiogramma standard questo perché a seconda del tipo di derivazioni coinvolte dall'ST sopra slivellato posso dire qual è la zona di cuore colpita dall'infarto STEMI e di conseguenza conoscendo l'anatomia coronarica capire qual è il vaso alla coronaria occlusa totalmente questo è uno schermino riassuntivo in realtà vi faccio degli esempi primo esempio STEMI da occlusione dell'interventricolare anteriore se vi ricordate la coronaria sinistra si divide quasi subito in un ramo che si chiama arteria circonflessa che è questo che poi va dietro posteriormente e in un ramo che si chiama arteria interventricolare anteriore che decorre nel solco anteriore tra ventricolo sinistro e ventricolo destro e dai rami settali un'ostruzione prossimale quindi alta dell'interventricolare anteriore mi dà un infarto anteriore perché la zona colpita dalla necrosi in questo caso sarà la parete anteriore del ventricolo sinistro come faccio dall'elettrocardiogramma a dire che è una STEMI anteriore è abbastanza semplice nel momento in cui ci ricordiamo dove guardano le varie derivazioni soprattutto in questo caso ci tornano utili le derivazioni precordiali e ci ricordiamo che per esempio V2 è sul quarto spazio intercostale sulla paro esternale di sinistra in questo caso è la derivazione migliore perché vede il cuore dal davanti ok in questo paziente avete e questi sono segnalati un ST sopraslivellato che si accenna anche in V1 in realtà ma che diventa consistente in V2 V3 V4 quali sono V2 V3 V4 sono le derivazioni che più delle altre esplorano il cuore dalla parte anteriore perché gli stanno proprio davanti quindi un sopraslivellamento di queste derivazioni mi dirà che c'è un'ischemia in sede anteriore del cuore ricordandomi l'anatomia so che la coronaria che irrora la parete anteriore del cuore e l'interventricolare anteriore verosimilmente questo elettrocardiogramma è un elettrocardiogramma da occlusione totale da infarto stemi della coronaria interventricolare anteriore questo è un esempio da libro questo è un esempio nostro e qui non sono descritte le derivazioni ma sono D1 D2 D3 AVR VLVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 guardate quello che abbiamo appena detto sulle precordiali V2 è palesemente sopra slivellato siamo in questo caso se vi ricordate deve essere più importante questo è un uomo sopra i 40 anni quindi sopra i 2 mm siamo ampliamente a 3 mm su V3 forse siamo anche a 4 vedete che il sopra slivellamento coinvolge V2 V3 V4 ma forse siamo anche positivi in V5 e V6 questo è un classico ECG da stemmi anteriore in questo caso probabilmente essendo comprese anche le derivazioni più laterali come V5 V6 che se vi ricordate sono sull'ascellare anteriore e sull'ascellare media quindi non guardano il cuore da davanti guardano il cuore da sinistra e V1 guardate anche V1 è sopra slivellato e AVL sono sopra slivellati che sono altre derivazioni che guardano il cuore da destra a sinistra l'infarto possiamo dire che oltre a essere anteriore è anche laterale ok quindi l'area colpita dall'ischemia sarà più ampia perché verosimilmente l'occlusione dell'intervetricolare anteriore è molto molto a monte ok D1 e AVL V5 e V6 sono le derivazioni che guardano invece il cuore da sinistra altro esempio opposto infarto inferiore in questo caso le derivazioni colpite saranno le derivazioni che guardano verso il basso verso la parte inferiore del cuore e quali sono una l'avevamo già detta ieri ed è AVF se vi ricordate proprio come direzione verso va dal centro del paziente verso il basso le altre due sono D2 e D3 che vanno D2 dal braccio destro verso il basso D3 dal braccio sinistro verso il basso D1 D2 D3 Scusate D2 D3 AVF si chiamano derivazioni inferiori proprio perché hanno il verso verso il basso in questo caso un sopraslivellamento delle derivazioni inferiori mi dice che c'è un infarto della parete inferiore del cuore qual è la coronaria che irrora la parete inferiore del cuore è la coronaria destra questo è un tipico stemmi da coronaria destra anche qui esempio da libro per farvi vedere il cg non bellissimo molto meglio questo D2 D3 AVF questi non sono difficili anche a prima botta se fate il metodo a 5 step quando arrivate sulla ripolarizzazione questi fate fatica a non accorgervi che esistono ok AVF e D3 sono palesemente alterati forse quasi mezzo di centimetro in questo tracciato c'è però un'altra cosa che mi interessa farvi vedere oltre all'St sopra D2 D3 AVF fateci caso ci sono anche delle derivazioni con l'St sotto slivellato D1 V2 AVL D2 D3 ok quindi cosa succede il mio paziente ha una stemmi inferiore ma contemporaneamente anche una non stemmi sulla coronaria sinistra c'è una stemmi a destra una non stemmi a sinistra no queste che vedete come sottoslivellate si chiamano derivazioni speculare ok cioè quando vedete l'St sopra è molto facile vedere nelle derivazioni che guardano le altre porzioni del cuore un'St speculare quindi ribaltato quindi sottoslivellato non sono espressioni di un altro infarto sull'altro territorio e non contano nel senso che se vedete l'St sotto e l'St sopra quello che fa fede è l'St sopra se il paziente è una stemmi inferiore le derivazioni speculari tendono a sparire di solito tra il primo e il secondo giorno dopo l'infarto però vi posso entrare in inganno perché se voi vi focalizzate solo su questa e non vedete queste prendete fischi per fiaschi ok terzo caso il più se vogliamo complesso quello che viene tradizionalmente definito alla tomba del cardiologo è l'infarto posteriore in questo caso non ho purtroppo una derivazione che mi guarda il cuore da dietro perché ovviamente sia le precordiali che le periferiche sono tutte sul piano frontale e quindi non riesco a vedere un'St sopra che cosa vedo vedo un'St sotto soprattutto guardate in V2 c'è un'St sotto ben evidente nelle derivazioni anteriori con una R molto alta se se ci fate caso nel soggetto normale la R è quasi inesistente in V1 e V2 soggetto normale in questi pazienti la R è molto molto alta perché è molto alta la R e c'è perché queste che sono le derivazioni anteriori mi guardano l'infarto posteriore al contrario come se fosse in uno specchio se io questa V2 la ruoto la ribalto che cos'ho? ho una Q è un'St sopra come faccio a confermare la diagnosi di infarto posteriore STEMI non ce la faccio perché non ho derivazioni posteriori quindi vedo solo cosa? vedo solo lo speculare vedo solo l'anteriore che è ribaltato per andare a fare diagnosi di infarto posteriore in questo caso se vi ricordate il posizionamento delle derivazioni aggiuntive in un quadro del genere si sospetta un infarto posteriore quello che si fa di solito è fare V7 V8 V9 cioè le derivazioni posteriori in questo caso le derivazioni posteriori mi daranno il ribaltamento di quello che vedete adesso in V2 e quindi una Q è un'St sopra altri casi più rari l'infarto destro anche qua si lavora con le derivazioni aggiuntive è ovvio che le derivazioni aggiuntive vi vengono chieste a meno che voi non siate brillanti e vi consiglio di farlo e porre il sospetto diagnostico direttamente voi queste sono delle derivazioni destre in un infarto da ventricolo destro abbastanza raro se ne vedono tantissimi in ogni caso tutte le derivazioni precordiali sono ribaltate cioè V1 si inverte con V2 e le altre derivazioni sono come quelle normali ma vanno sulle mitoracce di destra abbiamo visto nella lezione della lettura degli ECG in questo caso se vedete V4 V5 i V6 destra hanno un sopraslivellamento che è contestuale di solito a quello di un infarto inferiore sono di 2 di 3 AVF perché la coronaria colpita è comunque sempre la coronaria destra in questo caso la coronaria destra occlusa da un infarto inferiore con coinvolgimento del ventricolo destro per le derivazioni destre ci vuole poco di solito fare derivazioni aggiuntive nel paziente con sospettastemi di solito ci si mette 3-4 minuti sarebbe sempre meglio farlo discorso del tempo fondamentale abbiamo detto il tempo è muscolo perché perché ci sono tutta una serie di tempistiche vedete che andrebbero rispettate per far sì che il paziente vada a una strategia di rivascolarizzazione di riperfusione dobbiamo aprire il vaso colpito il prima possibile questa strategia come vedete ha dei tempi molto stretti se noi partiamo al tempo zero qual è il tempo zero? il tempo in cui faccio la diagnosi di stemmi all'elettrocardiogramma c'ho sostanzialmente due opzioni prima opzione c'ho un'emodinamica in sede oppure riesco a raggiungere un'emodinamica entro due ore qui il cut off è due ore 120 minuti sì allora mando il paziente in emodinamica meno tempo perdo e meglio è o lo trasferisco se sono su ospedale periferico o se ho l'emodinamica a casa attivo l'emodinamica per una angioplastica si chiama primaria in questo caso e si riperfonde l'obiettivo è riuscire a riperfondere entro 90 minuti ottimale entro 120 se possibile capite che questi sono discorsi teorici che poi in pratica si scontrano con tutta l'organizzazione sanitaria che abbiamo non è facilissimo rientrare in questi tipi di tempi se io invece sono in un ospedale periferico e non ho possibilità di arrivare in un'emodinamica entro due ore allora faccio quello che si faceva prima dell'avvento dell'angioplastica cioè la fibrinolisi che cos'è è una infusione endovena di un farmaco che si chiama fibrinolitico ce ne sono diversi l'idea qual è cercare di sciogliere il trombo però vedete intanto che io comunque trasferisco il paziente in emodinamica mi serve per prendere tempo se la mia fibrinolisi è efficace nel riperfondere di solito come si vede si abbassa l'ST sopra allora me la posso prendere con un po' più di comodo il paziente mi fa comunque l'angioplastica ma mi esce dall'urgenza vedete l'angioplastica la può pure fare entro 24 ore perché comunque ho sciolto il trombo col fibrinolitico se il fibrinolitico non è efficace allora comunque devo andare a fare una PCI in urgenza il prima possibile concetto fondamentale giremista la strategia è la rivascolarizzazione con l'angioplastica ok la fibrinolisi che adesso non si fa veramente quasi più a meno proprio di beccare centri veramente dimenticati dal signore oppure in condizioni particolari tipo centro periferico durante tempesta di nive e di solito si tende comunque a lavorare senza fibrinolitico e arrivare in un'angioplastica l'angioplastica il prima possibile questi sono i tempi accettabili da linea guida guardate quanto sono stretti non mi importa chi li sapete memoria il concetto che fondamentale è le linee guida dicono delle robe sono molto strette con i tempi è molto difficile riuscire a rispettare questi tempi guardate addirittura il tempo massimo che dovrebbe passare secondo sacri testi dal primo contatto medico cioè da quando il paziente entra in pronto soccorso e si presenta all'infermiere di triage alla diagnosi da quando entra alla diagnosi di stemmi meno di 10 minuti molto difficile arrivare a meno di 10 minuti a meno che non facciate la diagnosi già voi come infermiere di triage perché se già se dovete fare le cigi farlo vedere al medico è 10 minuti matematico che passano anche gli altri tempi sono molto molto bassi ok addirittura diagnosi di stemmi al fibrino litico se non posso fare la riperfusione coronarica con l'angioplastica 10 minuti tutto molto bello in teoria chi di voi farà o ha fatto esperienze in urgenza in pronto soccorso si accorde che sono anche tempi molto molto difficili da rispettare riguardo al fibrino litico anche qui non mi interessa che le sappiate tutte queste sono sempre le linee guida considerate che ci sono delle controindicazioni alla terapia fibrino litica che come vedete non sono poche sono controindicazioni assolute controindicazioni relative al paziente col fibrino litico sanguina sanguina molto sanguina spesso il messaggio qual è se è possibile e sinceramente nelle marche ormai non lo vedo più da forse qualche anno il fibrino litico non si fa se non in casi eccezionali si lavora sempre trasferendo il paziente al centro di riferimento per l'angioplastica controllo dei sintomi in questo caso ho tre strategie ossigeno che non è raccomandato di routine è raccomandato solo nei pazienti ipostici vedete con la saturazione periferica sotto 90 o con una P.A.O.2 all'emogas sotto 60 utili invece sia gli opioidi che le benzodiazepine ok la morfina la morfina che classicamente veniva data per la risoluzione del dolore da infarto miocardico e non è in realtà solo un sintomatico è un farmaco che è utile anche dal punto di vista fisiopatologico perché voi immaginatevi un paziente con dolore acuto importante vi hanno detto un borga torna otto quindi un bel dolore estremamente fastidioso riuscire a risolvergli il dolore non vuol dire solo far star meglio lui ma vuol dire anche ridurre tutta la spinta di adrenalina e noradrenalina data dal dolore acuto che ovviamente poi porta ad un aumento dell'attività del sistema simpatico e quindi ad un aumento di quella che è la richiesta di ossigeno lavorare controllando il dolore toracico vuol dire anche ridurre la richiesta di ossigeno a livello diocardico e quindi non solo migliorare i sintomi ma migliorare anche la performance del paziente altra terapia classica che si fa aspirina ovviamente non l'aspirina quella che per il mal di testa che su compresse a rilascio modificato per evitare l'esitività gastrica ma o endovena ok oppure classico flectadol acido tisalicilico endovena nome commerciale flectadol oppure l'aspirina orale in questo caso si fa un carico e poi il paziente continua con i classici 100 mg al giorno non si dà la cardiospirina che è il mantenimento non è il carico nel paziente con infarto miocardico acuto semplicemente perché i 100 mg sono la dose di mantenimento non sono la dose di attacco per il flectadol c'è l'eparina e l'aspirina endovena si lavora tra 250 mg e 500 mg di solito oltre all'aspirina si fa anche un secondo antiaggregante che una volta era il clopidogrel che può comunque essere tenuto in considerazione in pazienti particolari adesso è il tricagrel o il prasgr quindi concetto da ricordare il paziente con infarto miocardico fa due antiaggreganti aspirina e inibitore P2 e P2 12 e fa fino alla rivascularizzazione l'eparina che può essere parina non frazionata la classica parina in pompa quella per cui bisogna controllare la PTT per intenderci oppure il fondaparinux anche se il fondaparinux vedete nell'angioplastica primaria quindi nella STEMI non è indicato vedrete che c'è indicazione nella non STEMI se il paziente va subito a fare angioplastica come dovrebbe essere nella STEMI è più utile utilizzare l'eparina non frazionata quella in pompa non quella sottocuta non l'eparina solica non il clexane per intenderci sul lungo periodo il paziente con STEMI ripeto è un paziente che va controllato va controllato perché può sviluppare complicanze praticamente lo scompenso vedete vedete che i pazienti che escono con una diagnosi di scompenso già escono con tutta la terapia per lo scompenso paziente con STEMI riperscolarizzato riperfuso esce anche con una doppia terapia antiaggregante quella che abbiamo detto prima aspirina più Ticagrel Ticagrel o Prasugrel oppure il Clopidogrel in casi selezionati per un periodo che varia da 1 a 12 mesi dopo l'angioplastica di solito se ci si riesce non ci sono controindicazioni il paziente non è a rischio di sanguinamento più doppia antiaggregazione faccio nel tempo e meglio è perché comunque considerate che lo stent che metto all'interno della coronaria è un corpo estraneo e quindi devo dare tempo al mio sistema al mio endotelio la mia coronaria di inglobare lo stent se io non antiaggrego in maniera corretta il mio paziente le stesse maglie dello stent che sono corpo estraneo possono portare alla formazione di trombo perché la piastrina si aggancia sullo stent e io ho una trombosi intra stent motivo per cui nel paziente poi ci sono un sacco di eccezioni ma nel paziente che se lo può permettere si fa l'aspirina e l'inibitore P2Y12 quindi il secondo antiaggregante per 12 mesi dopodiché il paziente sospende l'inibitore P2Y12 e continua con l'aspirina a vita altro concetto fondamentale il paziente deve lavorare con delle statine ad alta intensità queste vengono messe indipendentemente dai livelli di colesterolo semplicemente perché la statina ha un effetto di stabilizzazione della placca quindi in un paziente che ha fatto una placca instabile che ha rotto un cappuccio fibroso che ha trombizzato mettere una statina ad alta intensità riduce la possibilità che quella placca si possa instabilizzare in un secondo momento quindi mi riduce il rischio di reinfarto come abbiamo visto prima o di recidiva di infarto il resto è la terapia dello scompenso per il momento prendetela per buona poi la vediamo nello specifico nella lezione dedicata due concetti sul non stemi allora primo concetto fondamentale da un punto di vista di gestione il non stemi e l'angina instabile un stable angina si trattano allo stesso modo hanno le stesse tipi di percorsi qual è la differenza la ripetiamo nel non stemi ho un aumento della troponina con una curva nell'angina instabile ho una troponina normale sempre associata a dolore toracicotipico e diagnosi in itinere di sindrome coronarica altro concetto fondamentale che è giusto ripetere per il non stemi abbiamo o anomalie dell'St e dell'onda T che non sono ST sopra oppure addirittura l'ECG normale questo vale sia per l'anostemi che per l'angina instabile tutto quello che non è ST elevato che può anche essere un tracciato completamente normale rientra in queste due categorie non stemi e angina instabile se ho una curva di troponina parlo di non stemi se non ho una curva di troponina parlo di angina instabile in questo caso i tempi sono un pelino più permessivi cioè non lavoriamo nell'ordine di minuti lavoriamo nell'ordine di giorni in realtà anche qua come sempre eccezione se il paziente ha una non stemi ma è a rischio molto alto per esempio un paziente con una non stemi che però ha cosa so un edema polmonare che mi fa delle aritmie ventricolari quindi cosiddetto paziente per semplificare instabile il paziente con non stemi instabile viene trattato come uno stemi quindi deve fare una rivascularizzazione il prima possibile vedete i tempi sono gli stessi due ore quali sono i criteri per parlare di rischio molto alto sostanzialmente i criteri di instabilità ok instabilità dei parametri sciocardiogeno dolore refrattario aritmie ventricolari complicanze meccaniche per esempio di cultura di cuore questi pazienti non sono frequentissimi nell'anostemi ma tutti gli effetti vengono trattati come stemi perché perché presentano dei parametri di impeggioramento se non li riperfondo subito rischio di perderli la maggior parte dei pazienti si colloca in questa categoria cioè paziente a rischio alto in questo caso ho un profilo di rischio dato da uno score che è il GRACE non lo vediamo è uno score multiparametrico che serve per stratificare il rischio dei pazienti con non stemi quindi paziente che non ha è stabile non ha condizioni di stabilità ma ha un rischio ischemico alto viene valutato come rischio alto come tale la strategia di riperfusione si fa ma si fa all'interno delle 24 ore cosa vuol dire vuol dire che io non parto direttamente dalla sala emergenza del pronto succorso e vado in emodinamica ma posso fargli la terapia farmacologica portarlo in reparto se c'è da valutare alcune condizioni particolari fargli magari un'ecografia più accurata vedere se ha comorbidità insomma impacchettarmelo un pelino perché ho un giorno di tempo per fare la rivascularizzazione sia la nonstemi che l'angina instabile di solito fisiopatologicamente non sono occlusioni complete del vaso ok e quindi non ho tutta questa necessità di correre per perdere muscolo sono occlusioni severe parliamo 90-99% del lume del vaso però comunque una minima quantità di ossigeno ai tessuti passa comunque non ho perdita di muscolo se aspetto ok è per questo che i tempi sono più permissivi se il mio rischio ischemico è basso allora la mia strategia può essere o una strategia conservativa nel senso posso anche non fare l'angioplastica se ho delle controindicazioni in realtà non è questa quasi mai la regola la regola è faccio comunque l'angioplastica coronarografia angioplastica o 72 ore o 3 giorni ok terapia cambia molto poco nel senso che siamo sempre con l'aspirina con la dose di carico mi raccomando non gli diamo la cardiospirina soprattutto per chi fa i servizi sul territorio sulle cruci private l'aspirina la cardiospirina non è il dosaggio di carico è un dosaggio di mantenimento il carico sono 250 500 anche milligrammi e il mantenimento sono i famosi 100 milligrammi al giorno della cardiospirina o i 75 del cardirene secondo antiaggregante anche questo non cambia niente e ticagrelor o prasugrel il prasugrel si fa in realtà nei pazienti che siamo sicuri che vanno a rivascolarizzazione quindi è molto meno usato praticamente diciamo effettivamente in pratica clinica il colpidogrel che è il vecchio plavix per intenderci si fa solo se ci sono le controindicazioni a queste altre due farmaci perché si preferiscono i prasugrel e il ticagrel rispetto al clopidogrel semplicemente perché il clopidogrel ha bisogno di due passaggi ossidativi a livello epatico che dipendono dai citocromi cosa vuol dire? vuol dire che di 100 pazienti che noi andiamo a trattare col clopidogrel con il plavix abbiamo circa un 25% di metabolizzatori veloci che hanno questi citocromi particolarmente attivi e che quindi rischiano di avere una dose non efficace in circolo perché il farmaco viene smaltito molto velocemente abbiamo un altro 25% di metabolizzatori lenti in cui questi citocromi lavorano molto poco e che quindi hanno il rischio di avere delle dosi circolanti superiori a quelle che ci aspettiamo e quindi un aumentato rischio emorragico il 50% ha un metabolismo più o meno normale in cui la dose che abbiamo somministrato è equivalente a quello che ci aspettiamo in circolo questo problema del clopidogrel cioè della metabolizzazione epatica è ridotta nel frasucreal che vedete ha un passaggio solo epatico perché il primo passaggio per il farmaco attivo avviene con l'idrolisi intestinale o addirittura col ticai che non è un profarmaco non ha bisogno di passaggi enzimatici per essere attivo è già attivo e quindi l'effetto del farmaco non dipende in nessuna misura dall'attività epatica dei citocromi epatici del paziente anche qui prima dell'angioplastica oltre la doppia antiaggregazione eparina anticoagulazione anche qua vedete preferita l'eparina non frazionata unfraction eparin anche qua si fa un bolo e poi si fa un'infusione di mantenimento si tiene sotto controllo l'APTT se il paziente non deve fare una PCI nel breve periodo si può lavorare anche col fondaparin è meno diciamo consigliato rispetto all'eparina non frazionata perché il fondaparin classicamente può dare trombosi dei cateteri da coronarografia terapia nel lungo periodo sostanzialmente quella che abbiamo già visto per la STEMI cambia poco altro concetto fondamentale la prognosi i pazienti con STEMI rispetto ai pazienti con non STEMI hanno un'aumentata mortalità intraospedaliera muoiono molto più spesso in ospedale le mortalità da infarto acute adesso sono molto molto bassi rispetto a vent'anni fa proprio perché questa strategia di riperfusione precoce permette di salvare tante vite la mortalità della STEMI però a lungo termine si equalizza con quella della non STEMI cioè sul lungo periodo STEMI e non STEMI hanno la stessa mortalità dopo sei mesi addirittura la mortalità è più alta nei pazienti con non STEMI questo perché probabilmente i pazienti con non STEMI sono pazienti mediamente più anziani sono pazienti più compromessi con molti più fattori di rischio e molti più con morbidità la terapia a lungo termine come vedete è praticamente identica controllo dei fattori di rischio doppia antiaggregazione se possibile per 12 mesi e la terapia per lo scompenso cardiaco se c'è scompenso cardiaco se c'è una fattoria di rischio sotto 40 in più la terapia con la statina per il controllo della deslipidemia e l'effetto pleiotropico sulla placca non andiamo nel dettaglio sappiate però che ci sono pazienti che già quando fanno una stemmi o non stemmi sono già sotto anticoagulazione perché per esempio hanno già una diagnosi di fibrillazione atriale faremo nella lezione sulla fibrillazione atriale anche l'aspetto legato all'anticoagulazione non mi interessa assolutamente che sappiate questa tabella perché tanto non se la ricorda nessuno ma anche io me la ricordo e me la devo andare a vedere il problema è ricordatevi nel paziente con nostemi di chiedere se ha fibrillazione atriale se fa già anticoagulante che tipo di anticoagulante fa perché ovviamente l'anticoagulante che già fa per la fibrillazione atriale deve essere in qualche modo incastrato con la terapia antiaggregante anticoagulante che io gli faccio per la sindrome coronarica e quindi a seconda del rischio omorragico o ischemico del paziente questi 12 mesi vedete consigliati di doppia antiaggregazione che vi ho detto fino adesso possono essere ridotti perché il paziente in più ha anche l'anticoagulante questo diciamo l'unico concetto con questo io avrei finito un po'